Oggi andiamo verso la chiesa di Goito che sta iniziando appunto le comunioni, c'è la comunione della Giorgia, 25 maggio 2014, la chiesa è quella di Goito. Grazie a tutti. Presentiamo al Signore il pane e il vino, doni messi nelle nostre mani, ma anche frutto del lavoro e dell'impegno, dell'unione di tanti chicchi e di tanti acini con la dedizione e il sacrificio dell'umanità. Questi semplici doni che presentiamo all'antare, affinché inventino il corpo e il sangue di Cristo, siano il segno della disponibilità dei nostri cuori, che vogliono amarlo, accoglierlo, adorarlo. Grazie. 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 Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, il capito, le cose belle. Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, che si è fatto uomo per darci la tua amicizia. Grazie per il tuo figlio Gesù, che si è fatto uomo per il sacramento dell'Eucaristia. Grazie per la vita eterna che hai segnato il tuo figlio. Grazie per tutti i tuoi doni, Signore. Signore, vi ringraziamo per la vita che ci hai dato e ci hai concesso di dare il dono dei figli, la salute e la serenità, sono qualcosa di tanto meraviglioso e non sarà abbastanza tutta la nostra vita per ringraziarti. Grazie per tutto questo uomo patrullare oggi, per la gioia che ci hai dato e accompagnare i nostri figli e la lupone con te. Grazie per il Signore. A un'ora. Molti ragazzi. Allora tutti quando ci siamo seduti. Un'ora. C'è preciso tutto. Per il paese è la luce. Cateria, in theatted像. Iran, in the Chicago. Ferrini, in incorporate. O che d'altro, benedetta. Poloni Francesco. Poloni dietro. Forte Carmi. Rigolicia. Umagai di Viola. Gailanti Lorenzo. Gattanzo Lara. Pugnano. Genovese Piter. Guaresi Maguitè. Luque Tumacho. Magnino Vigna. Magnino Vigna. Monisa Matteo. Natalini Vigna. Natalini Vigna. Tagliare. Tagliare. Tascuali Aulora. Tascuali Aulora. Bettini Andrea. Pintu Filippo. Pintu Filippo. Pintu Filippo. Roviste Padilla. Rostelli Alessandro. Scalioni. Rostelli Alessandro. Tascuali Giorgia. Sviggi Sabrina Spermieri Giada Tarana Renita Roberta Edelisa Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Ma che sole, che bella giornata. Già dato? Già dato un'ora e dato da me? No, va bene, allora sì. Andiamo? Viva! Va bene. Ecco, adesso ci prepariamo. Tesoro! E' stupendo, sai, il posto. Un bel posto. Dai un bacino allo zio. Che bella che sei. Casa dei nonni. È stata trasformata. Andiamo! Ci sono anche le margheritine. Giorgio! Ma andrà a mangiare? Ma Giorgio è proprio al momento che vengo. Che meraviglia, guarda. È vero. Siamo pronti all'ora per mangiare, eh? Bene. Fai la cresima. La zia te ne regala un altro. Così. Se vuoi gli orecchini, facciamo gli orecchini. No! Se non vuoi gli orecchini, fai l'anellino. Non vuoi vedere? Non capisco, non capisco. È un diamante. Ah, Giorgio è il diamante per sempre. Poi vedere, Vito. Puoi vedere, Vito? Il po' di un matello come questo. È una bella. È una bella. È ancora una bella. Siamo dopo, fanno un po'. Fai un bacchetto di nullo. Puoi vedere, Giorgio è un bacchetto. Vediamo tu. Wow, che bella. Vuoi fare vedere ancora? Ma io voglio vedere anche la gente. Giorgio risconti. Puoi fare un allungo? Buono. Dopo viene da l'ozio e ti farai. Vittoria. Apri, apri. Giorgia, prendi. Prendi, prendi, che anche io... Non che tutti non hai pianto. Tutti in via, tutti guardi. Tutti in via, tutti guardi. E ti fa partecipare alla sua netta. offrenditi il suo corpo e il suo sangue. E la sua porno. Non è più. 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 Sono due. Ci sono gli orecchini, quei brillantini. E poi cosa c'è lì? Guardate, gli orecchini, Margherita, d'oro. L'altro, 18 carati. E dopo c'è? Ma vabbè c'è la mamma. E lo vedete? C'è la donna. Sì, certo. Allora, gli orecchini? Ti scegliamo tanto delle le orecchini. Ma va che belli. Ma va che belli. Sì. Che belli che sono. Sì. Sì, mi muro, questo passo. L'oro per gli orecchini. insieme con la cuoroncina poi il libro delle preghiere pregati e pregati no, è quello prima quello anch'io no, ma è vero se non è vero io sto aspettando il 5 ma non è ancora arrivato ma non è ancora arrivato che mette l'abbonamento del telefono devi aspettare qua in pieno piano apri il corpo Gesù è ricordioso che bello ricordino Giorgia voglio vedere anche io gli orecchini vieni certo, un attimo apri bene vai là aspetta prendi prendi quel pello aspetta che ti da una mano ti fa il fatico eh, l'abbiamo messo per scartare pietro rosa, lux generale e poi dopo e poi c'è una bella prima la mia piccola fotografia la mia prima comunione guarda che bello tutto in argento con il bagno d'oro questo qua vedi la placatura d'oro tutto in argento a 9,25 con la placatura in oro guarda guarda la ragazza città prendi gli orecchini a margherita margheritine con la coroncina la coroncina si vai a vedere la coroncina che bello il 9,18 carattere giorgia posso vederli la mia porcina già finito come giorgia la vittoria non giorgia ma quello lì lo sai ma quello lì lo sai ma come mai c'è il giorgia ma che belli ma che belli è un piccolo ricordo eh sì sono in oro 18 caratti con i tanti e poi questa qui abbiamo pensato di fare questo qua tutto in argento con la placatura in oro eh sì dopo metti la fotografia che viene meglio c'è il ricordo il libro delle preghiere i pregati e pregati e la misericordia quella famosa che ha detto a Roma quella divina misericordia questa qui è quella che ha proposto di Papa a Roma e anche come fanno però non ce l'avevano c'è anche come con noi cosa che non pare grazie le parole la ballerina la ballerina si come ciò parlo poi poi c'è la zia l'avvocato c'è la l'avvocato si quando la parla c'è l'avvocato 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 è l'avvocato l'avvocato poi per la legge l'elisa l'elisa ciao mamma ma ciao bello ciao tato cara come stupo sono belli anche i gatti sono belli anche i gatti eh sì guarda che ciao 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 nani ciao mamma ti ricordi l'ultima volta quando abbiamo fatto questa che eravamo a Tonezza ti ricordi quando eravamo a Tonezza ti ricordi quando eravamo a Tonezza ti ricordi quando eravamo a Tonezza? ti ricordi quando eravamo a Tonezza ti ricordi quando eravamo a Tonezza ti ricordi quando avevi tirato le margherite quella volta la famosa che è a Tonezza ti ricordi quando le patorenza che è inizio? è il kruchen mettiamo tutti i fruttetti dall'altra parte insieme conyson questo è l'altro pezzo si offre a Tonezza penalty questo è l'altro pezzo dell' externally meraviglia guarda che meraviglia fantastico anche peccato non poteva fare il bagno dopo per fare il bagno c'è anche la docetta si risolve il problema è solo questione di sicurezza diciamo ci sono quelle che sono già pronte con la plastica grossa sono grosse così sono profonde così cosa è successo tante belle cose no tocca sempre lavorare